E io l'ho dedicata a tutti i gatti, in questo caso anche al cane, e a 40 gatti che a Medeo e a Nelli, che visitano la casa di Amedeo e Nelli, perché 40 se non 40 saranno 20, tutti con dei nomi di filosofi, io anzi avevo anche dedicato un somento o due a questi gatti. E uscirà, per annuncio, una raccolta di Sandro Muscati sui miei gatti, su Platone, Plotino, Aristotele, Wittgenstein, tutti i miei gatti, Mosè. E questa è una cosa molto lieve, anche abbastanza conversi, non perfettamente, non volutamente sempre regolare. I gatti non scrivono versi, forse li sognano solo il mattino tra uno sbadiglio e un ro-ro. Per questo vorrei miagolare, urnurare, intupare, finire come grilli assetati. Perché ogni bestia ha diritto, più di noi bipedi umani e malvagi, di vivere in questo mondo. Grazie. Applausi. Grazie. 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 Grazie.